C'è un malinteso, ma non è un malinteso, è una di quelle cose fatte apposta per farti stare male, frustrato, frustrato o frustrato. Cioè quello di aver disseminato nel corso del tempo l'idea che siamo qui per esprimere il talento e sinché io non ho dimostrato a me stesso che questo è il mio talento, cioè quello che sto facendo adesso, sto facendo il ristoratore, sto facendo l'artigiano, sto facendo lo scrittore, qualunque cosa stia. Facendo, e sia effettivamente il mio talento. C'ho sempre il dubbio, qual è il mio talento? Ci perdiamo, siamo completamente insoddisfatti, frustrati perché questo talento non arriva. Poi i talenti generalmente sono anche vocazioni artistiche e qua l'hanno troncati proprio scientemente. Prima era difficile lavorarci, guadagnarci, ma si poteva fare, adesso ci stanno provando in tutti i modi per stroncare le arti, la creatività dell'uomo. Che cosa si fa in attesa che il mio saper dipingere mi faccia diventare ricco, che il mio saper suonare mi faccia diventare famoso? Perché ci hanno dato quest'idea. Nel frattempo mi logoro, oppure entro in competizione. Ma questa è una fake news. Tu non sei qui, non sei chiamato a esprimere il tuo talento del fare. Tu sei chiamato a esprimere il tuo talento dell'essere. Che passa attraverso qualunque fare. Il vero talento che ti dà la chitarra è di entrare in contatto con la tua anima. Cioè il suonare le corde vuol dire sentire la tua musica interiore. Questo ti sta dando la chitarra. Ti sta dando il dono di esprimere il tuo talento dell'essere attraverso un fare. Ma poi c'è il parlare, c'è il camminare, c'è il mangiare, c'è l'abbracciare, c'è il fare l'amore, c'è mille, infinite cose che tu puoi fare secondo il tuo talento dell'essere, che è l'unica cosa che devi scovare.